in questa sessione noi andremo a trattare tutto quello che è la predisposizione e pubblicazione di un rdo semplice che cosa significa siamo nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione abbiamo più modi di negoziare nel mercato elettronico adesso vi spiegherò quali sono le differenze con gli altri tipi di negoziazione velocemente entreremo nell'operatività e vedremo i passaggi dalla predisposizione della negoziazione a sistema alla richiesta del CIC fino al momento della pubblicazione effettiva che ha un impegno ovviamente verso gli operatori economici esterni dove troviamo del materiale che ci può aiutare in tutto quello che vedremo dalla sezione supporto abbiamo infilmati il percorso per vedere le registrazioni di queste sessioni di formazione e nel wiki abbiamo tutte le informazioni che ci servono per la predisposizione poi anche gestione di quello che vogliamo fare tenete presente che noi sul wiki quindi da supporto wiki entra nel wiki andiamo a inserire aggiornate continuamente tutte le informazioni di cui possiamo avere bisogno detto questo dove troviamo le informazioni interna del wiki abbiamo creato delle sezioni ad hoc in questo momento trovate nella pagina principale le informazioni in questa sezione che rimandano alla richiesta del CIC che man mano poi saranno spostate e sono comunque linkata le singole procedure le singole procedure trovate scendendo giù nell'ambito delle modalità di acquisto richieste di offerta quello che faremo oggi le radio semplice quindi cliccando qui avete tutta la parte di come si predispone un radio semplice poi anche la parte ovviamente successiva per chi preferisce una versione stampabile comunque sia scaricabile formato pdf basta andare sul menu a sinistra che vedete qua queste tre linette e andare sotto scarica come pdf o versione stampabile quali sono i tipi di rdo sempre da ci supporta da questo punto di vista al wiki lo facciamo apposta in modo da vi darvi un elemento scritto sempre a disposizione quindi dal wiki scendendo sotto la parte degli strumenti mercato elettronico perché siamo nell'ambito degli acquisti del mercato elettronico dove si può acquistare o per acquisti a catalogo vale a dire l'operatore economico crea degli articoli che noi possiamo visualizzare quindi decidere se aderire all'offerta dell'operatore economico quindi senza una nostra iniziativa gli acquisti a catalogo sono caratterizzati dal fatto che l'operatore economico che dettaglia che specifica la caratterizzazione di quello che andiamo a acquistare pur nelle regole del mercato elettronico nelle radio invece che l'altra modalità di acquisto richieste di offerta noi pubblica amministrazione andiamo a specificare quello che vogliamo le richieste di offerta sono di quattro tipi trattativa diretta confronto di preventivi rdo semplice rd evoluta che hanno dei gradi di articolazioni progressivi noi oggi andremo a vedere in maniera particolare come si predisposiziona un rdo semplice che ha le caratteristiche che vedete qua delineate vale a dire può coinvolgere più operatori economici può essere quindi sia di inviti che aperta vuol dire che si possono invitare operatori economici abilitati alla categoria merceologica di riferimento delle radio cioè oggetto delle radio adesso vi spiegherò cosa intendiamo per categoria merceologica e però possono anche essere aperte cioè potranno partecipare tutti gli operatori economici abilitati a sempre la categoria oggetto delle radio è sempre solo ad un lotto e può riguardare un'unica categoria merceologica cioè non possiamo andare a acquistare oggetti che riguardino più categorie merceologiche sia dello stesso bando che di bandi diversi il resto poi lo vediamo operativamente ma parlando delle categorie merceologiche andiamo a vedere di che cosa si tratta se noi andiamo sul portale da acquista in mercato elettronico noi abbiamo l'elenco dei bandi di riferimento disponibili per gli acquisti sono tre i bandi lavori servizi e beni immaginate lì come dei centri concentrici che dalla parte più grande si restringono sono strutturati tutti allo stesso modo il concerto è che dobbiamo individuare dove si posiziona quello che vogliamo acquistare abbiamo ovviamente per scontato che noi sappiamo cosa vogliamo acquistare e da questo punto di vista dobbiamo individuare la categoria di riferimento perché è un elemento fondamentale delle radio sono strutturati tutti allo stesso modo quindi adesso prendo il bando beni ma anche gli altri due sono strutturati allo stesso modo che cosa vuol dire hanno tutti al loro interno una strutturazione che ci porta alla categoria merciologica abbiamo una divisione che riguarda le aree merciologiche e poi le classi fino ad arrivare alla al singolo alla singola categoria possiamo filtrare e quindi no dall'intorno che si tratta per esempio informatica possiamo entrare poi alla fase della della fila filtrare per classe ma oppure andare direttamente in cerca nelle categorie tenete presente una cosa che comunque in fondo è opportuno che voi andate a vederli abbiamo la documentazione del bando documentazione che contiene fondamentalmente il capitolato doneri che detta i requisiti di abilitazione degli operatori economici alle varie categorie e in capitolati tecnici che indicano i del dettaglio quello che sono gli oggetti di acquisto per ogni singola categoria noi possiamo anche attraverso box cerca nelle categorie andare a cercare per il nome di categoria per gli elementi che sono contengono nella categoria o per il codice cpv cos'è il codice cpv è un codice identificativo di degli oggetti che possono essere acquistati che noi abbiamo inserito all'interno dei capitolati tecnici e quindi nelle categorie per individuare più facilmente possiamo vederli entrando a singolo ambito guardando questa è una classe che soggio per intenderci vedete abbiamo l'elenco ma rispetto alla classe ricordatevi che all'interno il nostro riferimento deve essere sempre una categoria merciologica è importante che potete vedere che da qua noi abbiamo anche contezza se rispetto a una categoria possiamo effettuare delle rdo piuttosto che degli acquisti a catalogo in ogni caso per costruire quindi dobbiamo individuare per costruire il nostro riferimento dobbiamo individuare la categoria di riferimento quello che vi dicevo è che è possibile anche cercare per cpv o per descrizione in modo da trovare immediatamente o comunque più velocemente la categoria di riferimento cpv possiamo trovare anche su qualsiasi motore di ricerca mettendo qui l'elemento della categoria il del cpv il sistema si dice in quali categorie si trova se noi andiamo a vedere per esempio esempio qua sono editoria dei risultati perché non c'è nessuna categoria in quell'ambito se vedete su 47 ambiti se noi mettiamo l'identificativo del cpv il sistema già mi riduce questo perché anche se un cpv può insistere su più categorie il riferimento è sempre e comunque la singola la singola categoria di cui abbiamo bisogno fatto questo preambolo quindi che prima è necessario individuare la categoria di riferimento andiamo a sistema allora io posso agire per la creazione di un rdo o come punto ordinante cioè soggetto abilitato alla piattaforma acquisti in rete e che rappresenta la propria amministrazione che ha effettuato un processo di abilitazione firmando digitalmente dei documenti attestando che lui ha il potere di spesa per la propria via il pio può associare a sé dei punti istruttori i punti istruttore ecco qualcuno che è stato associato a un punto ordinante quindi il punto ordinante associa a sé un punto istruttore e ce l'ha come riferimento quindi è un'abilitazione perché è stata associata abilitato collegandosi a un punto ordinante sia il punto istruttore che il punto ordinante potenzialmente possono pubblicare un rdo quindi la predisposizione i passi che possiamo fare con un profilo da punto istruttore per la pubblicazione sono gli stessi del punto ordinante detto questo il punto istruttore quando predispone un rdo semplice ha la possibilità sia di pubblicare direttamente l'rdo sia di inviarla al proprio punto ordinante per la pubblicazione qual è la discriminante cosa prevede la vostra struttura organizzativa il vostro regolamento interno la vostra procedure è importante accanto a queste due figure che possono pubblicare l'rdo e che sono le uniche che possono predisporla quindi prepararla per la pubblicazione la figura del rup cioè del responsabile unico del progetto che è un soggetto che deve essere necessariamente autenticato presso l'anac e che sulla nostra piattaforma deve essere almeno registrato che cosa significa almeno registrato che può anche essere un punto istruttore anche essere un punto ordinante per essere punto istruttore punto ordinante deve essere si deve essere prima registrato e poi aver fatto la procedura di abilitazione ora non è necessario che sia un punto istruttore un punto ordinante è almeno però necessario quindi la condizione il prerequisito la registrazione tutte le informazioni anche qui di come ci si registra le trovate sul wiki appena entrati abbiamo registrazione abilitazione sostanzialmente una volta che si accede con speed c e siete registrati il sistema di chiedere le informazioni di contatto aggiuntive per farvi arrivare delle notifiche se se necessarie il rup ha un percorso diverso se rispetto al al punto istruttore al punto ordinante per le attività mentre il punto istruttore il punto ordinante andranno per creare la propria negoziazione da mercato elettronico abbia negoziazione oppure negoziazione o da qui a sinistra negoziazione il rup quando entra con qualsiasi profilo possa avere dovrà necessariamente aprire la tendina ruoli ricoperti su gara in realtà questo percorso non è esclusivo del rupo e questo percorso ce l'avranno anche i soggetti che saranno vedremo avranno la possibilità di gestire i dati dell'anac cioè per la richiesta perché il rupo avere sostanzialmente fra virgolette dei delegati o comunque sia degli aiutanti che possono inserire le informazioni che poi lui invierà all'anac per la richiesta del cig e quindi anche loro per inserire queste informazioni potranno entrare da ruoli ricoperti su gare con un'eccezione vale a dire chi predispone l'rdo quindi può essere il punto istruttore come può essere il punto ordinante di default potranno inserire questi dati dell'anac previsti nelle tre nelle tre elementi cioè dati del spd l'anac forma insomma tutte quelle necessarie per le varie negoziazioni eccole qua nel dettaglio dati anac spd e del ted che corrisponde alla parte di cioè fatto questo preambolo andiamo a vedere come si fa vi farò l'esempio un esempio pratico con un profilo da punto istruttore così da vedere tutti i vari passaggio sia più complicato più articolato con figure diverse che un passaggio invece magari anche che è molto simile appunto anche semplificato con un punto ordinante o un punto istruttore che sia anche un rupo che cosa facciamo quindi una volta che ci siamo siamo acceduti al sistema quindi punto istruttore e punto ordinante abbiamo detto che hanno le stesse funzionalità creiamo la nostra radio come o da mercato elettronico abbia negoziazione quindi clicchiamo su questo tasto cliccando su questo tasto il sistema vedete ci fa vedere questo schema e noi potremmo cliccare su rispetto al radio semplice clicchiamo su seleziona ok detto questo andiamo a e quindi iniziamo la parte della creazione un esempio diverso quale può essere partendo dal cruscotto sempre dal menu a sinistra negoziazioni meta che cosa succede esistono dei soggetti delle di riepilogo qua abbiamo delle negoziazioni meta il riepilogo delle delle negoziazioni che abbiamo impostato con due fatti specie ambiti diversi quali sono questi ambiti il primo rdio da completare contiene tutte le rdio che sono o in bozza o che come punto istruttore ho inviato al mio punto ordinante come punto ordinante ho ricevuto in approvazione vi ricordo che il punto ordinante se riceve un rdio in approvazione può pubblicarla direttamente o rimandarla indietro o modificarla e poi proseguire può fare quello che vuoi oppure pubblicate la cosa importante che vi ricordiate che qua ci sono tutte le rdio che sono nello in almeno in cui termini di scadenza presentazione offerta appunto non siano terminate quindi fino a quando gli operatori economici potranno presentare offerta starà in questa sezione scaduti termini di presentazione offerta andiamo in rdio da completare le troveremo in quest'ambito in ogni caso per pubblicare un rdio basterà fare nuova rdio per iniziare la procedura vedete lo schema è lo stesso qualcuno chiede come mai pio e rupp non coincidono possono coincidere ma sono figure e diverse vi ricordo che noi utilizziamo qua anche delle terminologie vedremo che non è detto che corrispondano a quello che voi trovate in ambito normativo cioè ci sono delle figure diverse sul nostro sistema abbiamo delle figure diverse per pio il rupp e anche l'rdp responsabile del procedimento che ha delle attività da fare nell'rdio di autorizzazione per esempio le fasi successive adesso le vedremo perché anche perché queste persone che ci stanno a livello normativo possono collassare tra virgolette in un'unica persona piuttosto andare in generale a essere distinte allora andiamo a creare la nostra rdio semplice clicchiamo su rdio semplice la prima cosa da fare è inserire i parametri essenziali quindi noi da qua andremo sempre a inserire tutte le informazioni necessarie a dare la base della nostra della nostra rdio poi ovviamente andremo a specificare successivamente tutti quelli che sono gli elementi di dettaglio nella parte successiva che come facciamo iniziamo appunto a compilare in modo da vedere tutti i pezzi innanzitutto diamo un nome alla nostra rdio per esempio rdio semplice formazione 22 adesso metterò delle cose parlanti ovviamente per noi il consiglio che vi do è quello di mettere sempre un qualcosa che possa essere parlante sia per noi che per le imprese che magari andrete invitare o chi la vedranno come radio aperta inseriremo la tipologia di appalto inseriremo la tipologia di procedura ora nella tipologia di procedura noi andiamo a non pretendiamo di mettere esaustivamente tutto quello che consente il codice potete scegliere una di quelle presenti oppure aprendo la tendina mettere altro si aprirà un box in cui potete rimettere il riferimento normativo che giustifica questa questa procedura detto ciò il regolamento applicabile è sempre quello del sistema di procurement e in modalità di invio dei fornitori avremo la possibilità di scelta però dipende sempre da diciamo noi che dobbiamo vedere il codice cosa consente come selezione operatori economici da invitare che ci consentirà di invitare gli operatori economici abilitati alla categoria oggetto delle radio o rdio aperta che invece ci consentirà di far vedere a tutti queste rdio e quindi a tutti potenzialmente che abilitate la categoria di presentare offerta la differenza quindi è che nelle quelle da invitare sono solamente gli operatori economici invitati che potranno vedere questa negoziazione una volta fatta questa impostazione andiamo a cliccare su crea rdio ok vi ricordo che le rdio sono si possono costruire sempre unicamente su categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico non è possibile creare o gestire rdio per elementi non presenti nella categoria merceologica quindi dovete andare nella documentazione come avevo fatto vedere prima e andare a vedere il capitolato tecnico per vedere cosa contiene quella rdio ok per vedere i dettagli di quelli che sono le rdio come avevo fatto vedere prima nell'ambito di questo poi era schermata una volta salvato che si atterra immediatamente dopo l'averla creata per vedere differenza fra le rdio vi ricordo che potete andare da acquisti dalla dalla dal wiki quindi da supporto wiki entrate nel wiki avete lo schema delle differenze per i vari tipi di rdio dove sostanzialmente vedrete che gli affidamenti diretti abbiamo delle fatti specie standard che sono trattativa diretta e confronto di direttivi mentre invece le negoziazioni vere e proprie rdio semplici e rdio evolute fermo restando che sta a voi decidere cosa per seguire e lo strumento con cui lo portate a termine cioè vi assumete sempre la responsabilità anche di utilizzare uno strumento che magari è previsto per una fatti specie per qualcos'altro ora a livello pratico noi abbiamo in quest'ambito la possibilità di impostare direttamente la nostra di audio semplice e poi di chiedere da gestisci anac forma e forma il cig che ci serve per la pubblicazione quindi adesso noi andremo a la necessità è quella di impostare prima la nostra rdio completamente non abbiamo la possibilità di noi inserire un ciga autonomamente il cig e c'è tutto un processo automatico che nell'ambito del mercato elettronico che consente di ottenerlo al dall'anac quindi questo sarà un campo che noi troveremo compilato automaticamente per questo è necessario prima inserire tutte le informazioni previste nell'rdio quindi vedremo tutte come si compongono successivamente quindi l'unica cosa che rimarrà fuori sarà l'ambito della documentazione che la possiamo inserire anche successivamente una volta che abbiamo impostato tutta la nostra rdio andremo nella parte della richiesta del cig e vedremo quelle che sono i rapporti con il ruppo se non coincide con chi sta impostando l'rdio ok quindi prima cosa da fare è compilare tutte le informazioni dell'rdio quindi tutte ovviamente quelle che sono obbligatorie metteremo una descrizione della fornitura allora ci sono dei dati facoltativi come date ora di svolgimento della prima seduta pubblica o che nel caso di valutazione delle offerte anomali tenete presente che il sistema non fa mai un'esclusione automatica c'è un'apposita registrazione su come si gestisce la fase successiva la pubblicazione delle reti o semplice che vi invito a a vedere non c'è un'esclusione automatica ma noi qua dichiariamo se intendiamo avvalerci della possibilità di escludere come visto al codice senza andare a chiedere ulteriori approfondimenti formulazione dell'offerta con o economica in quest'ambito noi andiamo a impostare se vogliamo una percentuale di ribasso quindi sostanzialmente uno sconto su quello che noi andremo a inserire come importo oggetto di offerta piuttosto che un valore economico come si imposta la percentuale a ribasso si mette il nome del parametro il peso è sempre uguale a uno ma dobbiamo impostare delle cifre decimali abbiamo la possibilità anche a e dobbiamo anche inserire direttamente possiamo inserire un ulteriore parametro se vogliamo l'unica cosa particolare che in quel caso il peso la somma dei pesi deve fare uno questo è un qualcosa che abbiamo impostato noi è stata una scelta per consentire di fare le parametrizzazioni quindi l'unica cosa dovete stare attenti è che qui eventualmente mettete e quindi 0 5 0 5 0 2 0 8 quello che volete con valore economico si inserisce sempre i decimali e poi si metterà un importo qui sotto che vedremo tra poco vedremo le dettagli il cig abbiamo detto che da qui possiamo solamente indicare se presente o non presente perché ci sono dei casi appunto in cui non siamo costretti a metterlo e poi vedremo dopo aver impostato tutto come si gestiscono si gestisce la richiesta da prima inserite tutte le informazioni e poi si va a chiedere il cic perché questo perché deve far parte della richiesta del cic e tutte queste tipo di informazioni tant'è vero che se poi noi dopo la richiesta del cic andiamo a modificare qualcosa rischiamo che non possiamo pubblicare più la radio quindi cosa dovremmo fare eliminare la bozza e ricominciare da capo se abbiamo già richiesto il cic e poi abbiamo necessità di modificare qualcosa possiamo direttamente eliminare la bozza non abbiamo necessità di fare altro il cic decade comunque dopo 90 giorni e possiamo andare avanti dobbiamo però inserire sempre una categoria di riferimento nell'rdo semplice si può inserire possiamo inserire una sola categoria ma anche se facendo riferimento a più cpv l'unica rdo che consente di andare a inserire più categorie merceologico e gestirle che vuol dire consentire la negoziazione con più elementi di più categorie è l'rdo evoluta nell'rdo semplice e nel trattativa diretta per frontevi solamente con un'unica categoria merceologica di riferimento possiamo cercare direttamente per il nome della categoria e andarlo quindi a cercare oppure inserire qua direttamente un cpv la differenza è che in quel caso il sistema mi proporrà tutte le categorie oggetto che in cui si trova quel cpv e potremmo andare però a selezionare ovviamente quella che preferiamo possiamo inserire fino a 100 cpv se vogliamo e possiamo personalizzare questo serve solamente a livello statistico il possiamo andare a personalizzare direttamente il valore della dei cpv di riferimento però ecco ci servì mettendo un prevalente comunque ci serve solamente a livello statistico come vi dicevo l'importante è che ci sia cpv prevalente rispetto alla richiesta che avete fatto che fa che fate all'anac ok quindi allora come vi dicevo tutte le domande risponderemo alla fine in modo che vi posso far vedere tutto il percorso e probabilmente risponderò alcune cose man mano che ne parliamo che cosa abbiamo abbiamo inserito quindi direttamente tutti i cpv di riferimento comunque sia i prevalente cui prevalenti l'importo oggetto di offerta possiamo impostare come base d'asta o importo presunto della fornitura qual è la differenza anche qui a livello normativo cioè il sistema non fa una discriminazione base d'asta vuol dire che stiamo indicando all'operatore economico agli operatori economici che qua noi abbiamo le indichiamo che il valore economico che inseriamo non può essere superato dalla sua offerta cioè non accetteremo ed escluderemo offerte superiore a questo valore economico che stiamo impostando il sistema però non fa un controllo lo dovremmo fare noi poi in fase di esame con importo presunto invece stiamo gli stiamo dicendo che questo valore economico può essere superato perché noi non appunto lo presumiamo che sia il valore della fornitura potrebbe essere maggiore quindi ricordatevi è un qualcosa che vi consente di gestire poi l'ambito dell'esame delle offerte ma non porta a un blocco a livello di sistema nell'ambito del del sistema il sistema non blocca detto questo gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono un qualcosa che è fuori rispetto a quell'importo che mettiamo qua in questo caso per fare un esempio sono e sono i costi interferenziali che vuol dire quelli che sono quelli che sono dovuti per esempio nel momento in cui ci dovesse essere l'eventualità di necessità di ingresso degli dei soggetti dell'operatore economico nei nostri ambienti nella nostra sede quindi nessuno tra noi può sapere quali sono i costi per esempio dell'assicurazione di quest'ambito e quindi li dobbiamo inserire noi ci possono essere altri oneri o meglio altri costi che non sono compresi non sono comprimibili e quindi devono essere indicati a parte come i costi della sicurezza i costi della mano d'opera previsti al codice li dovremmo chiedere a parte e come facciamo a chiedere li chiederemo con documentazione perché questo perché non abbiamo una scheda tecnica con domande da porre caratterizzandole noi direttamente questa possibilità è possibile solo con le rdio evoluta successivo inserire la parte dei termini di pagamento quindi mettendo direttamente quello che una parte di quello che è previsto dalla norma e e poi andiamo a inserire direttamente il valore in dati di consegna e fatturazione tipo consegna in via quella che è e aliquote secondo normativa troverete questo è un ambiente particolare in esercizio anche la possibilità di inserire degli ulteriori elementi della procedura tipicamente sono la domanda delle domande chiuse sin no verso l'operatore economico che riguardano le eventuali situazioni di controllo con altri soggetti che partecipano piuttosto che il se intende o meno a valersi del subabbalto dopodiché abbiamo la sezione dei ruoli allora il sistema ci costringe a indicare chi è l'rdp il responsabile procedimento e il soggetto stimolante questo perché per tutte le rdo chi crea chi predispone il punto ordinato il punto istruttore non possono fare praticamente niente dopo la pubblicazione solamente chi crea automaticamente diventa gestore dei chiarimenti in una fase successiva ma serve qualcuno che autorizzi a queste fasi immediatamente dopo cioè che dia dica chi sono coloro che faranno l'esame delle offerte e costipuleranno qui dobbiamo inserire il soggetto che da queste autorizzazioni che sarà responsabile procedimento il sistema di default me lo fa coincidere con il punto ordinante ma io lo posso modificare dalla x faccio conferma quindi può anche coincidere con gruppo ma può anche non ness può coincidere anche con il punto istruttore può essere una qualsiasi persona che noi andiamo a indicare purché anche qua sia almeno registrata al sistema lo vado a cercare e lo vado a impostare da questo punto di vista il responsabile procedimento ha la possibilità di autorizzare non lo principale è quello di autorizzare le fasi successive le persone alla fine che hanno questa funzionalità possono potenzialmente essere due il rdp che noi inseriamo e il punto ordinante che ce l'ha di default l'rdp responsabile procedimento passerà sempre da ruoli ricoperti su gare mentre il punto ordinante può passare anche da negoziazioni il percorso che abbiamo visto adesso detto questo io vi inutile che mi scrivete le domande adesso le guarderemo vi chiederò di riscriverme le alla fine non potrò leggerle adesso per fare il percorso completo detto questo stessa cosa per il soggetto stipulante soggetto stipulante il soggetto che potrà firmare materialmente la stipula quando saranno fatte l'esame delle offerte posso personalizzarlo come voglio anche in questo caso quindi da questo punto di vista possiamo inserire chi vogliamo quindi il responsabile del procedimento può sia coincidere che non coincidere con il rupp e con il punto ordinante dipende assolutamente da noi può coincidere con tutte queste figure come potrebbe non farlo dipende da chi imposta la procedura che cosa inserire in questo campo la piattaforma è totalmente flessibile da questo punto di vista il sistema ci chiede se l'ente committente corrisponde con la stazione appaltante indicando eventualmente qual è quello per cui stiamo compiendo questa negoziazione questo ci è utile che magari in unione di comuni c'è una comunità montana che poi gestirà il contratto e la referente allora a quel punto mettiamo quel nome lì di quella comunità e poi sarà il soggetto autorizzato alla spesa di quella comunità che qui potremmo mettere come soggetto che andrà a stipulare abbiamo poi la fase delle date ovviamente imposteremo dal termine ultimo richiesta dei chiarimenti vale a dire entro quando gli operatori economici potranno pormi delle domande per la procedura tenete però presente che il sistema non blocca vale a dire potranno anche inviarci delle richieste di chiarimento che però io potrò porre questa data e quindi non andare più ma veramente a rispondere fino a quando lo farà il sistema fino al termine ultimo presentazione offerte il termine ultimo presentazione offerte adesso sta sto mettendo delle date a caso mi va a indicare esclusivamente fino a quando gli operatori economici possono presentare offerta fino a questa data ora potranno presentare offerta dopo no limite stipula del contratto è fino a quando dovranno tenere ferma la loro offerta tenete presente che questo non implica che io non possa stipulare dopo questa data ora lo potrò comunque fare ma a livello normativo gli operatori economici potrebbero dire sono scaduti termini ho cambiato per me non vale più abbiamo poi la possibilità di indicare o con una data o con i giorni solari in quanto i giorni solari successivi alla stipula di per la decorrenza del per quando dovranno partire i servizi dovranno essere consegnati gli eventuali beni che stiamo chiedendo lo step della documentazione lo possiamo impostare successivamente alla richiesta del cig vi faccio vedere intanto come come si fa si accetta al disclaimer possiamo aggiungere documenti con tre funzionalità diverse documenti da consultare immaginate un capitolato tecnico comunque sia tutta la documentazione di gara o puntiamo a una urla che è presente per esempio nel nostro sito trasparenza o quant'altro oppure andiamo a aggiungere allegati quindi descrizione per esempio capitolato tecnico piuttosto che gli altri documenti che dobbiamo allegare facciamo sfoglia perché abbiamo è obbligatorio a questo punto inserire i documenti e da questo punto di vista vedete che possiamo allegare uno o più documenti possiamo selezionarne quindi quanti ne vogliamo a verranno carichi a facendo aggiungi documenti selezionati appariranno direttamente le note aggiuntive che vedete qua non sono visibili dagli operatori economici tutto il resto che abbiamo visto sì questi no per l'altra tipa di documentazione abbiamo documentazione da produrre documentazione da rinviare documentazione da rinviare è qualcosa che noi vogliamo che sia restituito indietro per esempio un documento che mi indica i costi della sicurezza o i costi della mano d'opera se pensiamo che siano previsti metteremo come tipologia richiesta per esempio economica in questo caso oppure altri documenti amministrativi cioè dipende quello che vogliamo avere non c'è una richiesta tecnica perché nelle radio semplice che è sempre solo al minor prezzo vi ricordo come abbiamo detto all'inizio e non ci sarà una valuta una valutazione tecnica ma solo economica possiamo impostare se il documento richiesto debba essere necessariamente inserito obbligatoriamente dagli operatori economici uno più documenti o facoltativi ogni documento che potranno caricare potrà avere un peso massimo di 20 mega possiamo impostare se debba essere firmato digitalmente o meno tenete per esempio che in ogni caso tenete presente che potranno il sistema darà un avviso se risulta la firma è tutto a posto ma il sistema non non blocca quindi potranno comunque caricare saremo poi noi che dovremo sempre controllare la validità della firma digitale invio congiunto da parte di operatori riuniti serve nel caso in cui il si presenti in un rt o un consorzio di conseguenza è necessario facendo mettendosi diamo la possibilità di diamo la possibilità di che uno solo di tutte le retiste del consorzio carichi i documenti per gli altri nella documentazione da reinviare il bisogno allegare un documento facsimile sostanzialmente necessariamente attenzione una cosa non ho detto prima alcuni browser vedete qui sotto personalizzano questa schermata e adesso sto usando chrome alcuni lo fanno alcuni no vedete non mi mette per esempio gli excel ma io posso caricare anche excel basta che faccio tutti i file posso anche caricare qualsiasi tipo di documento purché metta tutti i file per andarlo a cercare altrimenti banalmente il browser non me lo consente ma non è un problema di piattaforma ma di browser facciamo apri carichiamo aggiungiamo l'altro ritroviamo e facciamo aggiunge per quanto riguarda i documenti da produrre lo schema è assolutamente identico con unica differenza vedete che non c'è da prodata a caricare un facsimile perché basta magari la descrizione ultimo step è quello degli inviti abbiamo due modi due modalità distinte per invitare gli operatori economici da una parte quella di selezioni di andarli a cercare direttamente puntualmente mettendo la partita iva o la denominazione del dell'operatore deve necessariamente essere abilitato alla categoria mercologica di riferimento cioè a questa la categoria di abilitazione altrimenti banalmente il sistema non lo trova mettiamo quindi la denominazione o la partita iva facciamo cerca il sistema ci dice quelli che trova con queste caratteristiche noi andremo a selezionare e clicchiamo su aggiungi questo aggiungi non me li porta direttamente fra quelli che inviterò me li mette in operatori economici scelti poi potrò aggiungerli volendo c'è una funzione di sorteggio che però attenzione valutate in base al codice potete utilizzare o meno non c'è un algoritmo dietro è una è una è una è un sorteggio casuale altra possibilità che posso usare insieme alla scelta puntuale è quella del sorteggio vale a dire ho la possibilità di andare a a filtrare in base alle risposte che gli operatori economici abilitati alla categoria hanno dato in fase di abilitazione cioè questa che voi vedete sono le domande per l'abilitazione alla specifica categoria quindi per l'abilitazione gli operatori economici rispondono una serie di domande generali sull'impresa e poi alcune specifiche di categoria quelli di specifiche categoria le trovate qua e potete filtrare per trovare eventualmente un tot di operatori economici da invitare basterà aprire la tendina per vedere qual è la risposta tra quelle che potete filtrare per aggiungere il filtro bisogna selezionare la risposta e cliccare su aggiungi filtro cliccando poi su applica filtro il sistema va a vedere quanti operatori economici corrispondono a quello che avete filtrato si possono ovviamente aggiungere questo caso 18 si possono aggiungere più filtri ovviamente facendo aggiungi filtro e applica filtro quindi in questo caso ne abbiamo aggiunti due quindi si ridurrà l'ambito perché si riduce l'ambito perché si applicano i filtri successivamente l'uno all'altro cioè avremo tutti gli operatori economici che rispondono sia al primo che al secondo criterio e così via a questo punto possiamo guardare che filtri abbiamo applicato lì possiamo azzerare se ci ripensiamo ne possiamo togliere uno solo anche qua dovremmo fare aggiungi tutti poi per aggiungerli al momento e possiamo anche effettuare un sorteggio a livello di sistema guardate sempre se lo consente il codice appunto è una vostra responsabilità i filtri che applicate il come per poi aggiungerli come facendo aggiungi tutti sia dell'una che dell'altra parte quindi non va affatto da una parte sola ma se vogliamo tutti e due dobbiamo aggiungerli da una parte dall'altra per andarli a aggiungere in quelli che verranno effettivamente invitati in in visualizza elenco che poi può essere ancora zerato avremo la modalità di inclusione lo vedremo solo da qua quindi eventualmente ci dobbiamo fare una estrazione un print screen per vedere se sono stati scelti o se sono stati filtrati questa è la parte iniziale di predisposizione dell'rdo che noi andremo a salvare che ci servirà poi per chiedere il cig attenzione due cose importanti prima di vedere chi può andare a chiedere il cig quali sono i vari ruoli possiamo dobbiamo congelare sostanque quindi anche le date queste date vanno inserite e congelate prima della richiesta del cig dobbiamo congelare tutto prima della richiesta l'unica cosa che può rimanere fuori è la documentazione la documentazione la potremmo integrare anche in un momento successivo ma assolutamente tutto il resto va congelato prima della richiesta del cig detto questo io sto facendo tutto con un profilo da punto istruttore potevo anche essere il punto ordinante indifferente ho inserito come ruoli le rdp che può essere o il punto istruttore un punto ordinante comunque sappiamo che come ho spiegato prima il soggetto che poi andrà a gestire la fase successiva alla pubblicazione autorizzando le persone che dovranno fare l'esame delle offerte a poterlo fare sempre come punto istruttore o come punto ordinante una volta salvato perché io vado in gestisci anacform e forma a questo punto la prima cosa da fare è indicare il gruppo responsabile unico di progetto se coincide con il pio che magari è proprio lo stesso che ha predisposto iniziativa mantengo il sì questo è il nome del pio non devo fare altro tuta caso che invece non corrisponda allora gli vado a scrivere chi è quindi qua io di default mi ritrovo sempre almeno per le rd o il pio dov'è che fa eccezione sistema nelle gare in asp in cui il sistema invece mi propone le rdp come scritto qui sopra comunque in questo caso è il pio io però voglio indicare qualcun altro come faccio ci metto il nome il cognome e il suo codice fiscale e faccio cerca il sistema me lo va a cercare deve essere almeno un soggetto che è almeno registrato al sistema poi non è questa persona la persona che materialmente andrà a inserire i dati dell'anac voglio inserirla un'altra un suo una sorta di suo delegato che cosa faccio vado nelle sezioni il gestore dei dati dell'anac piuttosto che ted spd e ci metto il nome il cognome della persona può essere il punto ordinante può essere lo stesso se lo stesso gruppo non c'è bisogno di metterlo ovviamente se è un terzo che fa questa attività io lo vado a cercare e lo vado a inserire e questo anche per gestori dati ted e gestore spd cioè a seconda di quello che io devo devo far fare devo delegare posso inserire un'altra persona che sia registrata detto questo il creatore dell'iniziativa vedete io sono ancora col profilo da punto istruttore adesso vedremo che può andare a fare le altre intanto queste attività quali sono la prima cosa che deve fare è fare scelta da diana cio meglio scusate scelta della scheda dell'anac per scegliere la scheda ora come si fa a scegliere una scheda allora la scheda la dovreste scegliere in base alla negoziazione e in base alle direttive dell'anac quello che noi vi possiamo dire al di là dei vostri riferimenti all'anac è che da attraverso il nostro portale quindi torniamo al nostro portale sempre da supporto wiki entriamo nel wiki nell'ambito della sezione del cic potrà essere qua potrà essere spostata nel futuro ma ci sarà sempre una sezione della richiesta del cinque entrando dentro voi avete una sezione ad hoc che si chiama scheda anac qua trovate tutte le informazioni per la richiesta del cic che sono trasversali che vuol dire sono le stesse che servono quello che stiamo vedendo adesso questa parte particolare di castelc che è uguale per gli acquisti a catalogo per tutti i tipi di rdo per gli appalti specifici sdap e per le gare in asma se voi andate nella sezione schede anac trovate due cose molto importanti innanzitutto tutta una spiegazione di come si è per questo percorso e quello che stiamo vedendo ma vedete qua consulta documento attraverso consulta appunto questo documento avete indicazioni dell'ana che ce l'ha fornito direttamente la mappatura delle schede la tipologia delle schede la descrizione i campi obbligatori o meno la loro cioè tutto quello di cui avete bisogno almeno come informazioni se no dovete chiedere a loro man mano che intercettiamo delle informazioni che stiamo vedendo che possono essere utili sulle compilazioni dei campi è sempre una prerogativa dell'ana ovviamente perché in base a quello che chiede l'ana noi vi mettiamo qualcuna informativa che vi possono essere utili in modo tale che possiate più agevolmente e andarle a compilare queste informazioni le trovate non solo nel documento ma anche scendendo sotto vedete suggerimenti per la compilazione delle schede in modo tale che possiate averne visione poi sempre dal wiki come vedete avete tutto il discorso di come si compila che è quello che adesso adesso noi faremo un passaggio un passaggio veloce di come si fa perché poi è una predisposizione che dipende dalla scheda che avere che siete andati a scegliere per ecco la scelta della scheda dipende da voi il sistema consente sia di vedere le schede che sono tipiche della tipologia di procedura che avete iniziato ma potete anche selezionare includi tutte le schede e potete vedere quindi tutte le schede a disposizione con l'ana che quindi sta a voi scegliere la scheda importante perché è da e dipende comunque sia dal bambito vostro detto questo adesso io ne sceglierò una per procederò velocemente in modo da andare avanti una volta scelta la scheda e confermare quindi come vedete la scelta la può fare anche direttamente chi non è il rupp la può fare il rupp passando da ruoli ricoperti su gare e fai tutto lui la può fare un legato del rupp e le varie sezioni ma come stiamo vedendo la può fare anche direttamente il soggetto che va a predisporre le radio cioè non ci sono problemi da questo punto di vista quindi il discorso cos'è il soggetto che ha la possibilità che che il che predispone le radio avrà la possibilità di compilare tutti questi ambiti ricordatevi che quindi però poi l'invio dovrà essere fatto da rupp quindi io lo faccio perché sono entrato da qua ed ero un punto istruttore dove sono entrato lo rifacciamo vedere tornate indietro quindi stavo predisponendo la mia la mia rdo quindi man mano che la predispongo ho salvato i dati fondamentali e vado in gestisciana forma e compilo le informazioni che ho visto se sono un delegato invece che passaggi farò andrò adesso rientro un attimino a sistema scusate un attimino che nel frattempo mi ero che mi sia mi è scaduta la la sessione se io sono uno che è solamente delegato a virgolette quindi non il gruppo quindi sono stato inserito fra i soggetti che possono andare a gestire queste attività dove vado a trovare questa informazione una volta che mi loggo a sistema mi sono quindi mi ho inserito il mio mi sono alloggato con il mio speedo con la mia scie indipendentemente dal fatto che io sia un registrato un punto orientato un punto istruttore apro la tendina e mi trovo per esempio vedete gestori dati anac piuttosto che gestori e spd piuttosto che gestore e qualcos'altro se io invece sono un un ruppo quindi da questo punto di vista mi vado a loggare velocemente anche come ruppo in modo da farvi vedere mi troverò la riga dove è indicato appunto che io quella qualifica sempre dall'ambito della ruoli ricoperti su gare in modo tale che io possa svolgere le mie attività mi sono mi sono autenticata sistema col mio speedo con la mia scie apro la tendina ruoli ricoperti su gare vedete mi ritrovo a r26 rupp cliccando dentro confermo per poter vedere le attività che posso fare entrando dentro vedete la stessa schermata che si ritrova sostanzialmente colui che ha iniziato la la predisposizione vedete qua sono con un profilo e qua invece appunto sarò qua scusate sono con un profilo e qua sono con l'altro con quello da e da punti da punto istruttore vedete i soggetti dall'alto vedo che sono diversi adesso vado poniamo che sono sempre io come punto istruttore che vado a inserire le informazioni ho inserito vado a inserire adesso veloce queste informazioni modo da fare le cose quindi quel può essere delegato alle varie sezioni vedrà solamente le sezioni comunque sia la la cosa che deve iniziare a fare necessariamente le due sezioni che deve fare o chi predispone o il rup è la nomina dei ruoli quindi lo può fare chi crea e la scelta della scheda una volta fatta la scelta della scheda potranno intervenire i singoli delegati andiamo a inserire le informazioni e velocemente il codice ausa è un codice che ogni pubblica amministrazione deve conoscere il suo è un codice rilasciato direttamente dalla dall'anac se è un codice di dieci cifre quindi banalmente se non avete dieci cifre ma cinque mettete degli zeri all'inizio il centro di costa viene messo in automatico meno che non abbiate voi c'è un codice appalto che viene preso in automatico andiamo a inserire le informazioni in base alle tendine adesso qua noi abbiamo una non trovate tutte quelle che trovate in in esercizio ne trovate solamente alcune quindi e qui andrò velocemente perché è un vi dicevo non è l'ambiente che trovate quindi è solamente di esempio voi dovete ovviamente mettere le informazioni che riguardano la la vostra la negoziazione quindi ogni scheda tecnica ovviamente avrà l'ambito di riferimento suo specifico il campo e ccnl se non avete le contezza di quello che può essere potete mettere non applicabile trovate anche da questo e informativa appunto sul wiki insomma andate direttamente a inserire tutte le informazioni che vi chiede la la parte del della della richiesta della della scheda dell'ana che sono tipiche appunto di quelle richieste direttamente da loro adesso io qua sto mettendo tutte cose a che a caso però ecco congruenti una volta dovete ovviamente andare a compilare tutte le informazioni richieste compreso il codice ciclo che appunto scusate il codice istat che appunto che dovete conoscere è vostro oppure per maggiori informazioni andate a chiedere direttamente alla parte dell'ana salvate le informazioni una cosa fondamentale è che quando siete pronti cioè sono state compilate tutte le informazioni del caso andate a flegare pronta per la trasmissione e allora io vi ricordo che il punto istruttore anche se non è rupp come vi sto facendo vedere può compilare queste parti ve lo sto facendo vedere direttamente al sistema non ci sono dubbi su questo chi il concetto è punto istruttore punto ordinante sono soggetti che creano l'iniziativa i soggetti che creano le rdi o l'iniziativa possono compilare tutte queste fasi se sono anche rupp possono comunicarle ma se no è solamente il rupp che le può pubblicare quindi concetto è chi può compilare queste parti qua che stiamo vedendo le può compilare il creatore dell'iniziativa sia esso punto istruttore che punto ordinante le può creare i soggetti che ho nominato nei ruoli come soggetto che gestisce anacfor e for spd e le può compilare il l'unico che poi avrà l'attiva la sezione comunica con pc vi vedremo fra poco sarà il ruppo i con chi compila quando ha finito di compilare fa pronto per la trasmissione a seconda della scheda che è stata scelta le forma sarà previsto meno tutti i rimandi vi invito a verificare appunto a analizzare con la cosa è un file xml che deve essere caricato cosa deve contenere stessa cosa per le spd può essere obbligatorio o meno e qua contiene sostanzialmente il di giù però ecco l'invito appunto lì sono file xml da caricare io adesso col profilo da punto istruttore non posso vedete chiedere il chic vedete non ho il tasto per chiederlo col profilo da rup si quindi il rup che cosa farà cambio schermata vi torno indietro anzi torno proprio sul cruscotto così voi possiate vederlo una volta che tutti i soggetti autorizzati hanno inserito le liste delle previste e hanno flegato pronto per la trasmissione il ru può entrare a sistema se non coincide col bio che ha già compilato tutto ovviamente entra a sistema e potrà vedere è necessario che siano flegato pronto per la trasmissione inoltre vi dico che una volta ha flegato pronto la trasmissione il sistema manda in automatico una mail al ruppo in modo che l'avverte che hanno flegato tutti quanti hanno flegato pronto la trasmissione il ruppo entra a sistema clicca su ruoli di basso ruoli ricoperti su gare e entra nella negoziazione lui potrà accedere in comunica con pcp e lui solo troverà il tasto richiedici che cosa fa a questo punto vado in richiedici quindi e conferma in questo momento sto mandando la richiesta al chic ora qualcuno mi sta chiedendo a cosa serve questo cosa serve quest'altro la cosa richiede il cd giuese poi non lo vedo sono tutte domande che potete fare all'anac noi stiamo ripetiamo abbiamo tradotto sistema traduce le richieste dell'anac per la richiesta del chic le motivazioni che stanno dietro a tutte queste informazioni che state caricando sono una richiesta che dipende direttamente da loro abbiamo richiesto il chic possiamo uscire rientrare dopo cinque minuti dieci riclicchiamo su verifica con lo stesso percorso e vediamo se il chic c'è stato indicato eccolo qua il chic c'è stato dato di cambio schermata torno con quella da punto istruttore torno indietro per tornare sulla negoziazione oppure sono uscito sono perché ovviamente magari la cosa non è contestuale che cosa fa il punto istruttore vedete ma può essere anche il punto ordinante torna su negoziazioni quindi o dal box centrale da negoziazioni MEPA a terra sulla maschera del riepilogo delle negoziazioni entra dentro e vede se appunto gli risulta che qui non c'è una notifica sarà il RUP che lo avverte guarda ho richiesto il CIG eccolo qua me lo ritrovo in automatico a questo punto il punto istruttore che cosa fa può caricare la documentazione aggiuntiva no magari ci sono dei documenti che deve caricare quindi fa accetta fa aggiungi documentazione mette i documenti che deve mettere che magari devono contenere il CIG o quello che è nel fratto allora a questo punto se il RUP o meglio il punto istruttore può pubblicare direttamente o inviare in approvazione al PIO se il PI può pubblicare clicca direttamente su pubblica ma quando dopo se coincide con RUP può farlo direttamente se non coincide con RUP questo vale anche per il punto ordinante prima il RUP rientra a sistema e clicca invia a PCP perché se il RUP non coincide col pubblicatore deve mandare in pubblicazione presso l'ANAC una volta che ha mandato in pubblicazione presso l'ANAC il punto istruttore o il punto ordinante può andare a fare pubblica a sistema attenzione si fa direttamente pubblica non si digita prima salva e poi pubblica anche se dovete aggiungere documentazione si fa direttamente pubblica è quello che voi dovete salvare l'avete salvato prima della richiesta del CIC non rifate salva andate direttamente su pubblica potete richiedere il CIC integrare la documentazione che viene salvata indipendentemente dal tasto dopodiché dopo la pubblicazione dell'ANAC pubblicate a questo punto avete tutte le funzionalità normali abbiamo comunque completato la nostra pubblicazione che cosa può succedere andiamo prima della pubblicazione ho necessità di eliminare perché ho sbagliato qualcosa ma ho già richiesto il CIC cioè il concetto qual è ricordatevelo una volta che chiedo il CIC all'ANAC cioè una volta che l'ho ottenuto ho ottenuto il CIC e mi rendo conto che dovrei modificare qualcosa quel CIC io fra virgolette l'ho bruciato nel senso che io l'ho già ottenuto ok eccolo qua non ho ancora pubblicato ma mi rendo conto che ho sbagliato qualcosa non posso modificare quel CIC lo devo eliminare come faccio non si elimina tramite l'ANAC si va direttamente a eliminare la RDO di riferimento quindi non l'ho ancora pubblicata vado direttamente nel cestino elimino quella bozza che cosa succede al CIC il CIC non è un problema decade dopo 90 giorni tanto io a sistema non lo posso utilizzare devo necessariamente richiederlo nuovamente quindi il problema viene superato ok dopo questo step ci sono i passi normali della post pubblicazione che prevedono direttamente che sia l'RDP che può concedere o meno che va a dare le autorizzazioni e a attuare tutte le attività appunto che sono post pubblicazione tutte queste cose le trovate sempre da supporto wiki quindi per tutta la parte di spiegazione dell'ambito della come si imposta una RDO semplice come si va a quindi a interagire per richiedere il CIC l'abbiamo visto appunto in questa sessione che vedete direttamente ok